il materiale non scende da me insomma anana e stai stai staranno non si riesca ad arrivarci al campamento sono in altissima vediamo 2 mm più in alto questo un metro più in alto ma no è stato come me per prendo con le shot canna azzurra che è quello che c'è con il mare scherzava non ha preso niente oggi dal tipo che io penso la cesta cosa no no ma la brutta ma la brutta ma la brutta ma la brutta ma mi piace non mi piace ma io credo di vita lo è esploso un cito e non voglio avere c'è abbiamo delle vende ok ce n'è una cosa perché io si vieni qua ti do le vende aspetta ancora io ancora ma io sì non queste che bordello basta di uscire tutti 2 2 ci sarò ma noi oggi faccio il medico ok ecco il bicepino no ai coltivata 12 e mediti servono no no una pistola è anche quella tenta ma che tanto è tutto vuoto risultiamo a nabirinto lasciamo solo io ho preso una chest una cosa c'entra anch'io ma anche la mura dell'averinto no 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 non c'è ma tutto perché pensiamo tanto siamo in se io voglio prendere un po' di materiali tanto all'interno è sempre tutto il vuoto comunque c'entra che ne erano due perché io non ne ho rotte gli altri e accenderà una dal centro c'è una da sopra che ha preso qualcuno una che ho preso io ho anche preso è una che era qualche prodotto oh è nudo si è nudissimo più ma enorme il suo spiazzo si è vero tutto sembra enorme quando ci devi lo schifo è di certo è più grande perché tutto quello spazio di seti però sembra molto più enorme se l'avvento l'ho sempre visto come minuscolo anche io mi sembra un po' più grande che c'è spugli a caso in giro poi dovrebbe essere stato una donna gigante leghiamo anche questo col centro che serve come diventa ci facciamo tre colpi se non ai medi due tre colpi allora da neanche qualche colpo lasciatelo lì allora no lascia il fil di ferro oh ambiguo no ne manca un pezzo volevo tu si siamo velocissimi tra ci scianca oh io l'ho preso è tondo è tondo oh no è enorme zì a che senso la 19 è questo 40 oh mio dio ma anche questa clip la puoi mettere solo solo con tutto vieni tipo qua da un lato e guarda aspetta ecco qua guardalo qua figo il gazebo wow la metti guardi un po' in giro e ci faccio subito un'altra vado anch'io venga vai proviamo a fare il orange justice sincronizzato pronti posti via sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììì bellissimo troppo swag indri a preva fare il The Robot sincronizzato cioè pronte aspetta aspetta qui dove dove aspetta in un'altra volta di robot eccolo ai posti via o no non è sì no non è tutto secondo me si io faccio noi a faccio un po prima vabbè è comunque troppo su però mettilo quello si sta molto io l'impulse quanto legno ai 570 dammela impulse anche a 570 no ma che no non si fanno queste cose fuggire abbandonate le vende se devo anche la prende no 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 prendi sarei prima di schifo tanto io devo prendere una ciasco di per me posto ambico che la se voglio il fight finale in mare non c'è mai capitato non sarà possibile pensare che ne vende di bricio testo cristo di tappetino il tuo è pieno di dio tutto a petino è pieno di dio si è tutta piena di puntini allora che anche le queste non le so leggere please registe esplori macchina rippe macchina rippe macchina rippe sassi mie ok ha detto mie and shut up fucking up shut up fucking up dai può esserci ancora al fight in mare è vero che figa ricola 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 mi sono messo lo slime ce l'hai con il tuo bruncettino adesso? no e adesso? non vuoi che li abbia trovati oh in un bush ecco li sono tanti sì sì hai mai provato a metterti un cespuglio e fare i balli? no tipo con il serpente con il floss è tondissimo è già un casino con il serpente anche tempo 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 fa nelle summit god si trova sempre dai voglio fare una kill o uno shot che mi faccia urlare di felicità che ti fa? che ti fa? che mi faccia urlare di felicità di fel... felicità ho capito ho capito dio in città oi perchè hanno levato il campo da ballo? non lo so era bellissimo sono venuto voglio ballare quella cesta è mia cosa? attraverso il muro dica zi stasera vuoi venire a giocare a bowling? a che? a bowling ehhh si si vuole venire perfetto è bello il bowling si è bello si si a post in conti non aver voglia del portantico ma ma il bowling è svegli si tratta di non conneggiare con le palle eh quella è molto svegli poi facciamo con quel tizio in quel video che lo tira nel soffitto e cade tutto si però si possono mettere i bordi si possono mettere? i bordi? e lo credo perchè io faccio schifo anch'io si si quella è divertente assai divertente stiamo facendo i precision si guarda ooooooh dovrei stare a trovare sulla fessore del muro vorrei eh questo era bello meno dalla mia visuale era perfetto solo che non molleggia sto indecidio salta da 2000 metri facca le gambe perchè non molleggia si non è molliccio di ginocchia mi sa un po' se questa la vinciamo così a caso io ho una kill te due tre eeeh 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 che cosa è persa se qualcuno se la prende è veramente da minare ah mi dai colpi piccoli eh si vabbè si vabbè ho una mitraglietta ma si siamo in 15 si siamo in 15 si è messi di culo però se che gli amococco non abbiamo 3 kill c'è una non avrebbero incontrati eh subito all'inizio siamo rimasti tutte e due con poca vita tu sei andato scioglie eh eh troppo troppo bella staccato cosa posso fare ah va bene facceli uh 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 questo mi serve no pensavo fosse una revolver mi hanno ripreso il tank era uno scritto dai ti prego fai che la sef sia qua 880 di prepara tipe troia cinque secondi quanto di resto scu' vai dai no Ellino l'ho mai capitato koCC ckino pure hop azzurro non è notato che strano allora devi vieni prendi questo sculino un altro pollo azzurro se non c'è chi non è il gazebo qua c'è un antico iphone ma non te ne fai niente del manti in grado si deve prendere quello che se l'ha abbandonata vieni uno su scendone ma perché non lo vuoi prendere cosa che dobbiamo andare in cecchi e te non lo prendi io ce l'ho dal inizio partita non per mai vero così perché però dovrei continuare a dire da messi di culo a messi decente anzi forse più vedi messo bene io a parte che un tre colpico 4 normale bitcoin e siccome l'ha detto dai si questa c'è mettiamo in saccoccia noi siamo ricordatelo a meno stavolta i materiali non definiamo sì aia che ha finito ma portiamo più a casa tra lago e sono stupido e mi arriva la tempesta in faccia ma io e io prendo materiali e che questi vecchi e questi sacchi e senza che pica senti che si distribuono in un colpo un gran fa che costa ma qua c'è una luce viola enorme ma cosa sono le luci non non ho ancora capito ok per me dottore l'impulse grenade vieni coltivo a scudini qua si ma cosa sono ste luci viola che certe volte spavano in giro a caso oh vedo gente eh veloce quanto no è più lenta perfetto oh sei imposto oh mio dio che pelo gli ho fatto assurdo dovresti muoverti è passato in mezzo ai campi non alzare il tuo castello non sai se lo so vabbè andiamo ecco me mi hanno scecchinato perfetto non lo so eccoli dove sono da da nell'accampamento dei barboli dietro al muro che schifo lo schifo di essere oh sono qua che è l'accampamento ora lì ce n'era l'accampamento 19 li ho fatto a sto 12 o li ho fatto tipo 90 ok mi c'è un tipo c'è il tipo l'assunno l'ho visto ricordati che io tipo preso con tutta la raffica mi ha sparato preso di nuovo ok la mitraglietta da duro hai un medico schifo che fa guarda lì c'è a dio ma è potentissimo è bellissimo 8 scudini ma che è guardalo non posso farci niente però è neanche io ma è una fegata sì non è che tu la vita no no dai passi qui l'abbiamo aperti anche se eravamo c'è dello schifo qua è un launch eh te lo premito il il lanciagrenate io non riesco lì ma non è che lo voglia tanto allora io legno maxato anche tu vero no allora prendi da qua sotto sono 505 madonna ma si maxato no adasi ok dame colpire in fatti no venne 27 davanti a noi in quella base adesso sono sulla case c'è io ho visto 7 7 ma direi che inutile prenderlo ho preso bravissimo assurdo il colpo gli è arrivato tipo dopo anni se lo prendeva in access questo era un colpo che mi faceva urlare dalla felicità aiuta quante quante attacchette si è andato su è tipo no una tozza e mezza ma solo sempre sì quanto non mi prende arrivo da te scarpe c'è chi non è leggendario buono e viene a farti la scuda arrivo noi facciamo la base del povero gente che scorrazza un bordeaux in alto vai oh mio dio quanto vicino un'altra noi qui cose eh un altro energicoso sì sono davanti oh finalmente che abbiamo full scudo una volta ah no te non è full scudo non ho più full materiali volevo ho battuto oh mio dio quanto 192 sono dio non c'è niente da fare col cecchino non c'è niente da fare c'è poi chi hai abbattuto è un tizio dietro la collina a caso verso ovest oh barbaone no oh e io avevo abbattuto il suo amico perché mi ha dato la file oh mio dio cosa siamo c'è è registrato sì sì ho registrato qua c'è un medici fatelo ecco c'è un ciocchino buono leggendario quante impulsi c'è niente colte per il non è che sono là sopra vero non lo so io però ci devo andare perché se lo sono ecco lì arrivo ah cristo cristo sono morto di breve uccidere mi ha fatto un casino di botte tutte le perché se lasse perché hanno pochissima vita cioè non lo so dove sono è solo qua della casa sono sempre l'imbarbola ecco l'esatto se sei sull'uccidi no c'è la sinistra a sinistra no vai di fronte vai giro hai abbastanza vita ancora ricordi che ho denneggiato anche lui muori muori dai che stai giocando bene non andare nel panico c'è mi sono voinic dar se stii non c'è ninc vrei sa pleci dar numai numai ei numai numai ei numai 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 ei numai 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 sulle ok per me